ciao amici oggi voglio parlare della dieta dell'avena un cereale facilmente digeribile utile per dimagrire efficace contro il gonfiore addominale e la ritenzione dei liquidi se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video l'avena aiuta a dimagrire dando un senso di sazietà incredibile vero infatti non crea picchi glicemici perché i suoi carboidrati sono digeriti lentamente e rilasciano energia a lungo termine e perché non è così diffusa il giorno d'oggi troppo sana troppo sana ecco come integrarla nella vita di tutti i giorni avena a colazione si può bere il latte d'avena con i fiocchi di avena tipo porridge o contenuti nel muesli da consumarsi con frutta secca nocciole mandorle e frutta fresca o essiccata come prugne uvetta fichi albicocche una colazione così credetemi vi porta fino a pranzo senza desideri di spuntini carboidratosi o spezza fame vari avena a pranzo buoni i burger e le crocchette d'avena o la farina per panature sfiziose o per fare il pane in casa rende bene anche nei dolci per esempio il plum cake i biscotti o le crostate ricche di gusto e super light avena a cena i chicchi si possono bollire e condire con verdure cotte e legumi o usare per addensare minestre calde zuppe e vellutate ho letto che l'avena è uno dei cereali più antichi esatto ci sono tracce del suo consumo fin dal 4000 avanti cristo si consuma in chicchi fiocchi farina o in forma di latte vegetale adatta per chi ha dieta per gli intolleranti al glutine e al nickel ricca di fibre è alleata della salute del colon soprattutto per chi soffre di colon irritabile perché limita le infiammazioni anche croniche quindi sgonfia la pancia e permette di perdere chili in poco tempo le proteine rendono sazi e le fibre favoriscono la motilità intestinale oltretutto si dimagrisce senza effetto io io per vedere tanti altri video sui migliori prodotti naturali basta iscriversi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto l'avena è un cereale fantastico che combatte ansia e depressione mentre dona una forma diversa al corpo l'avena è eccellente nell'alimentazione infantile e per gli anziani mangia consapevole e vivi meglio